Il punto è non se Renzi farà la manovra correttiva, ma quando e quanto grossa. Mi spiego. Oggi l'Ocse ha rettificato la crescita del PIL prevista all'1% rispetto all'1,6% che aveva previsto Renzi. Voi direte che c'entra. Semplicissimo. Nello scenario peggiore previsto dal governo Renzi si saliva solo dell'1,1% e così si arrivava vicini al 3%, al 2,9% di deficit. Invece siamo peggio dello scenario peggiore. Questo significa che si sfora il 3% e va fatta la manovra correttiva, che sarà minimo di 3 miliardi per scendere appena sotto il 3, se l'Europa lo consente, massimo di 15 per tornare dove si doveva andare, al 2,2%.